La dottoressa Francesca Moriani Con Francesca abbiamo deciso di interpretare uno slot tecnologie con una logica relazione partnership con i partner tecnologici perché non è di scatole che stiamo parlando ma soprattutto di relazione No, assolutamente La buona notizia innanzitutto è che tutte le soluzioni che abbiamo visto nel corso della mattinata tutte le soluzioni ad alto carattere innovativo sono ovviamente abilitate dalla tecnologia quindi l'IT resta, è e sarà un fattore centrale, un fattore importantissimo Ovviamente questa forte spinta al cambiamento, l'abbiamo visto durante tutto l'arco della mattinata la pervasività della trasformazione digitale, la complessità crescente nei data center dei nostri clienti la richiesta di sempre maggiore efficienza spesso abbinata a riduzione di budget in ambito IT ovviamente impone a un operatore di sistema come Var Group di aggiornarsi e di rettificare le proprie competenze per rispondere con soluzioni tecnologiche adeguate ed innovative Ovviamente negli ultimi 12-24 mesi abbiamo investito tantissimo in questa trasformazione del nostro modo di leggere e di interpretare il mondo dell'IT in modo veramente da riuscire a offrire al cliente sempre soluzioni innovative che abilitano questo tipo di soluzioni ma che allo stesso tempo siano personalizzabili per ogni singola esigenza del singolo imprenditore, di ogni azienda perché ogni azienda, ogni settore sono diverse l'una dall'altra E quindi non stiamo mettendo in discussione il ruolo del prodotto ma soltanto il ruolo del transazionale Il ruolo dell'operatore che ovviamente deve adeguare la propria competenza in modo da rispondere con soluzioni complete quindi soluzioni che abbracciano a 360 gradi tutto l'ecosistema del cliente L'IT a questo punto deve presentarsi come un consulente dal cliente perché deve capire qual è la soluzione da abilitare e di conseguenza impostare il progetto tecnologico adeguato In tutto ciò, come dicevi, le relazioni con i partner I partner, i vendor, in questo periodo sono molto dinamici nel cambio di strategia Basti pensare a un IBM che ha venduto l'X86 server alla Lenovo HP che ha deciso di splittare in due l'azienda Una Rico che ha comprato un NPO Un Itachi che ha comprato una CBT Tutta questa grande dinamicità in ambito dei vendor avrebbe potuto destabilizzare un partner come Var Group In realtà, grazie alle nostre competenze, alla nostra capillarità territoriale alla credibilità che abbiamo sui clienti questo in realtà ci ha avvantaggiato nel senso che oggi siamo molto più credibili di prima nei confronti dei clienti proprio perché portiamo consulenza siamo svincolati da quello che accade in casa dei vendor ma anzi riusciamo a gestirlo e a presentarlo in maniera adeguata al cliente Insomma, mentre qualcuno cerca di seguire la strategia quando non puoi battere il nemico confondilo Uccidilo Tu stai seguendo la strategia portiamo soluzioni perché alle domande del cliente dobbiamo dare delle risposte Dobbiamo dare delle risposte e delle risposte adeguate a seconda di dove vogliono andare L'altra grande novità, come è stato detto anche in apertura è ovviamente l'ambito del cloud Grazie all'investimento che abbiamo fatto avete visto, oltre all'adeguamento della conoscenza in IT in sicurezza e nei servizi gestiti che erano fondamentali siamo riusciti ad integrare tutti questi aspetti ed oggi ci sentiamo veramente pronti di poter affrontare la sfida che il cloud ci sta ponendo Soprattutto 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 il cloud ibrido Ci sono delle ricerche di mercato che confermano il fatto che il 36% dei clienti sul territorio nazionale prediligono la scelta di un cloud ibrido piuttosto che un cloud pubblico o un cloud privato Questo perché ovviamente il cliente oggi si trova in casa delle infrastrutture T che già aveva ma ha anche bisogno di poter affidare delle soluzioni nuove quindi nuove capacità elaborative in maniera dinamica e ovviamente quindi ecco il perché delle soluzioni del cloud ibrido perché riesce a affiancare il nuovo al tradizionale Var Group anche in questo ha delle risposte ha delle risposte vere casi di successo che sono stati portati a casa negli ultimi mesi grazie all'utilizzo sia del data center di Empoli sia all'integrazione con offerte di cloud pubblico dei vendor principali con cui lavoriamo che sono IBM e Microsoft Questo permette non solo di gestire un cliente italiano che lavora in Italia ma anche di accompagnarlo nell'internazionalizzazione parola difficilissima grazie appunto all'utilizzo dei data center che i vendor mettono a disposizione Franci una cosa è in dubbia che per mettere in condizione il cliente di furire al meglio del cloud ibrido bisogna sapere come sono fatti i suoi sistemi informativi e voi di clienti di cui sapete come sono fatti i sistemi informativi ne avete un botto un numero che si attesta intorno ai 9000 A che punto è l'accordo con SoftLayer? Oddio che domanda difficile No, l'accordo con SoftLayer è attivo ovviamente come partner IBM è da sempre il nostro partner di riferimento per cui siamo stati uno dei primi partner a voler capire e integrare la nostra offerta con l'offerta IBM di SoftLayer quindi assolutamente attivi Francesca proviamo a tirare le somme di questo giro di video forte rapporto di partnership con chi ti mette a disposizione il prodotto il prodotto come componente fondamentale per dare una risposta al cliente la risposta può essere molto diversificata a seconda delle esigenze esatto qual è il passo successivo? cosa bisogna fare per fare funzionare meglio il tutto? rimanere ovviamente aggiornati e continuare a investire su quelle che sono le competenze e soprattutto continuare a seguire quelle che sono le soluzioni che oggi interessano i clienti quindi la soluzione è l'elemento centrale con cui presentarsi dal cliente mentre l'IT sempre più spesso dobbiamo cercare di portarlo su di noi quindi lasciare il cliente a gestire il proprio core business e prendere noi la gestione di tutto il mondo IT come operatori di sistema e professionisti prendere la gestione totale sia del data center che delle periferiche grazie Francesca ottimo lavoro grazie a tutti